Ciao a tutte e tutti, sono Giovanna, mi ritrovo ricoverata in ospedale a Torino. Dopo essere stata il 17 sera in Bad di Susa, mentre mi recavo a portare solidarietà alla mia voce, alla mia vicinanza alle persone che resistevano sul tetto a San Didero, perché lotto contro la TAV, perché è un'opera oltre che inutile e dannosa, domani subirò un intervento, sono stata colpita da un lacrimogeno, domani ho una serie di fratture sul viso, domani subirò un intervento, volevo ringraziare tutti e tutte e dirvi che non mi sono mai sentita sola, ho sentito la vicinanza di tutto il movimento no TAV, ma non solo, anche di tutte le persone che lottano per la propria vita, per una vita migliore e contro le devastazioni dei territori. Grazie a tutti e tutte, ci vediamo presto, io sono Serena e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti e essere tra di voi.